allora mi trovo nuovamente dopo centinaia di chilometri nel nulla più totale a fare benzina c'è una coda abbastanza importante come vedi dal benzinaio quello che volevo farti vedere sono questi prezzi eccoli qua allora una benzina 95 ottani costa 163 tenghe 163 tenghe stiamo parlando di 40 centesimi al litro ragazzi 40 centesimi al litro e noi siamo arrivati a pagarla anche un euro e 70 in passato qui a differenza dell'usbekistan non c'è gas ma c'è benzina perché il kazakhistan c'è tanto petrolio quindi questo è quanto 20 chilometri da qui c'è il confine con la cina in effetti tutte queste macchine vanno in cina per fare acquisti laggiù non so se vedono ci sono delle montagne è l'inizio della catena dell'indu kush che poi arriva fino come se fosse le pre alpi è il pre indu kush che poi arriva in nepal arriva in india e arriva poi in malaya è incredibile io ho sabbia dopo queste dune ovunque come dire anche dove non batte mai il sole ma sono nel mezzo del nulla ragazzi nel nulla più assoluto tanto per dire